Molti value investors vanno sempre a cercare occasioni di acquisto di ottime aziende a prezzi buoni, a prezzi ottimi o a prezzi eccezionali. Ma si va a parlare sempre di azioni conosciutissime ed io ho l'articale per questo. Vorrei sempre portare argomenti nuovi o comunque non cercare per forze di adeguarmi alla massa per le visualizzazioni ma cercare di portare dei contenuti più o meno originali. Oggi ti vado a presentare tre di queste aziende sottovalutate che molto probabilmente non conosci ma che a mio parere vale la pena di andare a studiare ma ti dico quali sono solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi estrapolo dal mercato azionario tre aziende di cui come sempre molto probabilmente hai sentito poco parlare o che non conosci per niente che però sono sottovalutate e che in questo periodo possono essere un'ottima soluzione per un buy. Ovviamente come sempre si tratta di mie opinioni personali, di mie valutazioni personali, non di consigli ad investirci, men che meno un consiglio ad investire. I miei sono semplici ragionamenti a scopo didattico. Poi ognuno deve fare le proprie considerazioni in base alla propria strategia di investimento, al proprio arco temporale di investimento e alla percezione del rischio. Fate sempre i vostri approfondimenti. In realtà giovedì 2 giugno finalmente ti svelo il mio secondo progetto completato e per cui qualche consiglio te lo potrei anche dare ma non voglio spoilerare a meno che tu non voglio sapere tutto in anticipo per cui ti ricordo che se sei interessato dei contenuti di tipo premium e di tuo gradimento e vuoi accedere ai contenuti dedicati appunto puoi abbonarti a YouTube o associarmi su Patreon a un costo di un semplice caffè a mese fra cui anteprima in esclusiva e fra cui anche notizie sul mio secondo progetto che è stato appena completato. Ma cominciamo a parlare della prima azienda, la prima Eoving TV Inc che si impegna nella produzione e nello sviluppo di petrolio, liquidi di gas naturale e produzione di gas naturale. Questa società ha sede a Denver in Colorado e attualmente impiega 1713 dipendenti a tempo pieno. È stata quotata nel 21 agosto del 2001 e le attività della società comprendono anche la commercializzazione di petrolio, liquidi di gas naturale. L'azienda opera attraverso tre segmenti, operazioni USA, operazioni canadesi e ottimizzazione del mercato. Per quanto riguarda il segmento delle operazioni USA include l'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di petrolio, NGL, gas naturale e altre attività correlate al mercato degli Stati Uniti d'America. Il segmento invece delle operazioni catanesi include l'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di petrolio, NGL, gas naturale e altre attività correlate però che vengono all'interno del Canada. Il terzo segmento, quello del market optimization, è il principale responsabile delle vendite e della produzione della società a clienti terzi. Le attività di questo segmento comprendono anche acquisti e vente di prodotti da parte di terzi. Le principali attività della società includono Permiano nel Texas occidentale, Anadarko nell'Oklahoma centro-occidentale, il Montenay nel nord-est della Columbia Britannica e nel nord-est dell'Alberta. Altre attività comprendono Bucking nel nord-Dakota, Unita nel Utah centrale e Horn River nel nord-est della Columbia Britannica e infine Wetland nel sud dell'Alberta. La società era precedentemente nota con un altro nome che era Encana Corporation e ha cambiato i propri nomi in Obintive Inc. nel gennaio del 2020. Attualmente la società sede a Denver in Colorado ed ha un P.E. di 8,3. Come dicevo prima circa 1.700 dipendenti e un dividendo dell'1,77% coperto da un P.E. attrazzo del 17%. Attualmente capitalizza 18,6 miliardi di dollari canadesi. La seconda azienda è Crocs. Crocs si occupa di progettazione, sviluppo e produzione, marketing e vendita e distribuzione in tutto il mondo di calzature casual, abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino. Questa società sede a Broomfield in Colorado e attualmente impiega circa 5.770 dipendenti a tempo pieno. È andata in IPO l'8 febbraio del 2006. L'azienda opera attraverso tre segmenti, le Americhe operando il Nord e Sud America, l'Asia del Pacifico che opera in tutta l'Asia, Australia e Nova Zelanda e infine il gruppo EMEA, Europa, Mediorente e Africa che opera in tutti i paesi dell'Europa, l'Ussia, Mediorente e appunto Africa. Le sue collezioni contengono materiale Cross Light che è un marchio di resina a cellule chiuse dell'azienda che utilizza appunto questa tecnologia per delle calzature modellate. In questo momento l'azienda commercializza i propri prodotti in circa 85 paesi diversi attraverso due canali di distribuzione sia all'ingrosso che diretto al consumatore. Il canale all'ingrosso comprende rivenditori multimarca nazionali e internazionali, negozi partner, monomarca, distributori ed e-tailer. Il canale invece è diretto al consumatore e dell'azienda comprende negozi al dettaglio, siti in e-commerce e sui mercati di terze parti. I prodotti includono Crocs, Lightride e Gsbit. Al 31 dicembre del 2021 aveva 193 outlet, 107 negozi al dettaglio, 373 negozi gestiti dall'azienda, 73 chioschi e negozi in negozio e 14 siti di e-commerce gestiti direttamente dall'azienda. Capitalizza 3,5 miliardi di dollari americani, ha un pie a di poco al di sotto di 5 e al momento non distribuisce nessun dividendo. L'ultima azienda è Capri Holdings che opera appunto come gruppo globale di moda e di russo. I segmenti della società includono Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Il segmento Versace è impegnato nella vendita di prodotti Versace attraverso i negozi al dettaglio, comprese le concessioni, e i siti di e-commerce attraverso porte d'ingresso, comprese i negozi multimarca. Invece i segmenti Jimmy Choo e Michael Kors sono anche impegnati nella vendita di prodotti attraverso i negozi al dettaglio, comprese le concessioni, e i siti di e-commerce attraverso porte all'ingrosso, comprese i negozi multimarca. I prodotti dell'azienda venduti attraverso il segmento retail includono abbigliamento femminile, accessori che includono per esempio borse, piccola pelletteria e portafogli, abbigliamento maschile che includono calzature e prodotti su licenza come orologi, gioielli, fraganze, prodotti bellezze e occhiali. Tramite invece il canale all'ingrosso l'azienda distribuisce in Stati Uniti, Canada, America Latina, Europa Medio Orientale, Africa e Asia. Inoltre concede il marchio in licenza e i marchi Versace che sono venduti a terzi per la vendita al dettaglio o all'ingrosso dei suoi prodotti. Accordi di licenza anche per la produzione, per la vendita di jeans, profumi, orologi occhiali e arredamento per la casa. In precedenza l'azienda era conosciuta come Michael Corse Holding Limited e ha cambiato il proprio nome in Capri Holdings Limited nel dicembre del 2018. L'azienda di per sé è stata fondata nel 1981 a sede a Londa nel Regno Unito. Ha una market cap di circa 7 miliardi di dollari americani, 11.600 dipendenti e un P.E. di circa 12 e mezzo. Bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste tre aziende e se hai mai valutato una o tutte. Le hai in portafoglio, le hai in watchlist? Fammelo come sempre sapere nei commenti qui sotto. Poi ovviamente se questo video è stato il tuo gradimento come sempre ti chiedo di supportarmi con veramente poco, ovviamente se non ti iscrivi ai canali premium lasciando un bel pollice in su per farmi crescere qui sulla piattaforma e per dare una grande soddisfazione anche a me. A te costa un attimo ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nel suo video successivo. Bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!